quattro variazioni su donne donne di chiaravalle sì tutto si muove in calabria tutto fugge tutto cerca tutto bussa energicamente alla porta ad una vita più clemente ma c'è un personaggio che aspetta e a dire del quale bisognerebbe intigere la penna nel colore dei più freschi fiori che qui formano siepi allo stato selvatico i gerani e i garofani e gli oleandri fiori popolari fiori suoi di lei della donna con quei colori vibranti come una nota musicale lungo tempo tenuta in una continua rinascente limpidezza non voglio dire della donna della piccola borghesia e della borghesia questa lo si sente è contenta di essere libera almeno nella veste e nell'acconciatura dai bisogni che opprimono ora per ora l'umanità che la torna divora i molti giornali gonfi d'amore per tutti e di bellezza per tutti che la città di milano rovescia sulla penisola e che qui trovano una clientela enorme questa donna diciamo così cittadina è basta guardarla piena di una continua trepidazione e ansia di una vibrazione continua di una mobilità di una vivacità di un bisogno d'attenzione come se fosse sfuggita da poco miracolosamente a una grave disavventura e la disavventura da cui è scampata è la condizione popolare quella del costume dell'andare scalza del portare pesi da piccina chi nasce qui donna del popolo è abituata ad andare a piedi nudi da piccina è quasi è quasi per gioco le si impone un peso da portare sulla testa e senza l'aiuto delle mani il canestrino piccolo il paniere l'orcetto per l'acqua da tre a cinque litri è l'iniziazione a quella che sarà la sua vita portare al torrente la cesta della biancheria da lavare a una o due ore dall'abitato al mulino il sacco dei 50 chili di grano da macinare dalla fonte la giara di 50 litri d'acqua dal bosco il fascio della legna dal prato l'enorme carico di fieno sotto cui non si vede il viso trafelato ma le braccia che reggono il busto che si torce è una simile consuetudine coi pesi da portare in equilibrio e senza l'aiuto delle mani se non coi pesi schiaccianti o troppo voluminosi che dà alla donna calabrese quel contegno quella presenza quella andatura diritta sulla schiena quel passo di cui si può avere l'idea guardando qualche statua greca in movimento o l'apollo di veio quel volgere del capo come sette messe di lasciar cadere un'aureola insomma quel contegno unico al mondo da fare invidia a una sovrana possedere un'asina per queste cose non è da tutti grondano sudore sotto il peso e un movimento sbagliato per le strade difficili comprometterebbe tutto l'equilibrio il viso stirato la bocca ansante una cocca del fazzoletto a volte fra le labbra pare aiuti lo sforzo forse aiuta a non lasciare scorgere la bocca socchiusa quando il peso è enorme il passo si fa piccolo saltellante mentre il piede nudo avverte la più piccola scabrosità del terreno la spina o il chiodo e levita con le dita sensibili ma quando il peso è meno greve allora è quel passo uguale largo le braccia distese sui fianchi tra il fruscio delle gonne quel passo che ella serberà sempre e che basta vederlo sulla strada asfaltata delle marine dove incede come un'apparizione per ricordare i tenaci paesi aggrappati alla montagna tra la frana e il torrente dove è la calabria dura e cruda e piena di amore taciuto ma sul principio una tale fatica è un gioco attraversare uno di questi paesi la mattina sulla piana della sila o della spromonte o delle serre pare venga avanti una compagnia di giocolieri le grandi giare di creta vuote alte un metro e più dritte sulla testa le grandi ceste vuote che la sera torneranno cariche ma che ora permettono di volgere volubilmente la testa sull'asse del collo la memoria fa strani scherzi e può capitare di scordare molti fatti importanti ma non quella bimba di otto anni a chiaravalle alle sette di mattina che andava con la sua cesta vuota sul capo coi suoi ancora teneri piedi scalzi imbronciata nel visino bruno per cui è già arrivata l'età di non sorridere e quella gran cesta come un formichino che trasporti un seme grande il triplo del suo corpo girava di qua e di là il capo e girava torno torno la cesta e il suo passo aveva sì quella maestà che si acquista sotto la continua impressione dei pesi che in qualche scuola di ginnastica si adottano per dare alla signora alla signorina di buona famiglia un contegno eretto ma la maestà della bimba era in tono minore come un tema musicale molto serio riportato su una andatura scherzosa e le due donne che discorrevano sulla porta avevano in mano un sacchetto vuoto e ripiegatolo se lo mettevano sulla testa per avere le mani libere al gesto il gesto è largo e non delle mani ma tutto sul gomito come fanno gli attori dei drammi storici nell'atto di porgere un messaggio al sovrano l'umile via quotidiana della calabria ha il suo modello nel presepe quel tanto che vi turba inconsultamente e rimescola in voi non si sa quali mondi puerili dimenticati o addirittura non conosciuti ma almeno una volta intravisti è quel peregrinare trasportare i beni della terra e quando avrete capito di che si tratta che il presepe vivente che tutte le figurine del presepe sono qui e quella che porta l'agnello e quella del sacco e quella del formaggio e quella del bimbo allora la vostra emozione sarà piena avrete capito la poesia umana del presepe e quella della calabria il mattino e la sera sono le grandi ore di questa terra il luogo per tali ore è la dove all'ingresso di ogni paese dell'interno sono erette le tre croci del calvario e che calvario si chiama in alcuni le croci sono cinque e anche sette la croce del mezzo ha quasi sempre qualcosa di araldico con tutte le insegne della passione il velo la spugna la lancia i chiodi le tenaglie il martello e su tutto il gallo col becco aperto di qua si scorge il mare più vicini i colli un paese di ruto e abbandonato con le finestre vuote sul colle franoso con la picatura bianca della frana e le siepi di gerani e di agavi e di cacti lungo la strada il letto del torrente su cui la primavera e l'estate lasciano fiorire gli oleandri i lontani paesi sui colli a picco o raccolti tra le cuspidi dei monti corrosi dal vento come tra le dita ad una mano lontano il mare da un capo all'altro dallo spartimento a puntastilo da squillace a crotone deserto e questo fruscio è il rumore delle sue vesti quest'anzare è il suo è la donna che arriva col suo corteo e questa volta porta un carico schiacciante di tegole nuove l'uomo libero della fatica dietro e i bambini che hanno ancora voglia di saltellare qualche volta c'è anche la capra il maiale i polli tutti in fila una dietro l'altro ai margini della strada ognuno solo vi salutano chiunque siate felice sera non parlano ed ella porta un mazzetto di fiori di campi come ella sa fare stretti e densi come una pigna si sposano presto è il tempo in cui fioriscono e il tenero della giovinezza si spande in un incarnato di miele a onta di tutte le fatiche così fiorisce anche lo spino anche il rovo sulla ferrovia calabro lucana una di queste donne ha preso posto accanto a me era vestita di verde aveva un bimbo in braccio di non più di tre mesi se ho mai abbassato gli occhi davanti a una donna fu davanti a lei aveva uno sguardo pieno di stupore come se avesse subita una violenza vedevo che ella non poteva avere più di 16 anni quando si levò per scendere mi accorsi che era nuovamente incinta le donne di bagnara la mattina alle 6 quando mi trovo a viaggiare sul diretto notturno delle calabrie lo sento dall'aria e dalle voci che pure filtrano attraverso il rumore compatto del convoglio da un silenzio vasto ma pure vibrante di un occulto vigore che devo sollevare la tenda del finestrino per ritrovare i tratti di quest'ultimo lembo della penisola risponde dal profondo della memoria l'immagine che conoscevo dalla fanciullezza e non so più se sia realtà o una mia figurazione dalla fanciullezza aspetto un'apparizione sempre uguale le donne di bagnara sono passate due generazioni da quel tempo e queste sono le figlie e le nipoti di quelle ma a me sembra di essere io cresciuto ed esse rimaste quel mistero quella fatica la donna eterna il diretto mattutino non si ferma a bagnara ma io so che troverò queste donne a villa san giovanni dove aspettano di imbarcarsi per messina trafficando tra una sponda e l'altra a chi straniero italiano mi domanda itinerari meridionali consiglio spesso di imbarcarsi a villa san giovanni per messina andata e ritorno per vedere le donne di bagnara che fino a ieri eravamo pochi a conoscere ad aspettarle affacciati al treno come ci si affaccia a vedere il battistero e la torre di pisa dal treno in corsa ed ecco ora che i pittori e i fotografi riportano l'immagine di quel tipo di donna che va prendendo un posto nel più rinomato matriarcato di alcune regioni italiane andate a vederle al traghetto fra reggio e messina è bello il distacco solenne e come piena di un eco solitario alla montagna dell'aspromonte la calabria romita dove potrebbe apparire sempre un profeta di cristo mentre andate in un'isola dove potrebbe apparire dionisio senza stupire ma tenete gli occhi bene aperti e guardate le donne di bagnara che escono da tutte le parti dai posti di ponte con le loro ceste e i loro sacchi vuoti sul capo e poi al ritorno cariche della piccola merce che trafficheranno sul minimo margine di prezzo dalla città mercantile ai paesi che attraversano al ritorno lo sanno anche i doganieri che esse fanno contrabbando di sale dalla sicilia dove il sale non è genere di monopolio non dirò gli accorgimenti di queste donne per nascondere il sale in un blocco di cristallo più facilmente occultabile e trasportabile e che poi macineranno a casa senza invidia e senza rancore vi guardano appena affacciato al finestrino di prima classe sul treno che traghetta su ferribotto esse che speculano sulla differenza di prezzo di una dozzina di scope tra messina e bagnara e che servono da corrieri tra bottega e bottega per rifornimento di merci voi appartenete a un altro mondo anche se il loro passo lungo sul piede nudo posato a terra risveglia in voi lo stesso turbamento d'una immagine di idea pellegrina lo capirete anche voi che quello è un regno chiuso che difida di tutto in sciame solidale come le api come i più costruttivi animali della creazione che così il rabbondo ha un'intimità un'individualità in quell'indistinto state attenti perché spesso per la loro difesa portano uno stiletto nel seno il loro vestito è quello comune dei paesi marini di calabria una blusa che ricade sotto la cintura una veste chiara sulle gambe e i piedi nudi nera nelle vecchie piuttosto corta quasi al ginocchio larga e con molte pieghe la blusa può ricordare una blusa orientale la gonna ha molte pieghe e greco romana è curioso che tornino certi richiami culturali per una donna che farebbe pena se non avesse quel contegno quel segreto quella fierezza vestita com'è con due poveri panni di cotonata inverno ed estate giusto per coprirsi e chi lo conosce sa di quel corpo che nelle giovani ha spesso la struttura di un efebo che non avverte più la temperatura esterna una statua appena intiepidita dal soffio della vita in una fatica interminabile per chi è nato in quell'estrema punta della calabria a vedere queste donne si rinnova tutto il mondo dei ricordi della madre della sorella della bambina con cui abbiamo giocato nell'infanzia delle comari delle amiche di casa della donna di fatica pellegrina da paese a paese col sacco vuoto ripiegato sulla testa alla partenza col sacco pieno fino ai cento chili che va alla città a fare la spesa e quasi mai per sé che percorre le fiumare appena in secca a fare legna sono loro che al tempo delle orive scendono cantando che è un loro modo di discorrere per lavorare la raccolta per il salario di poco più di un chilo di pane che aspettano l'uomo con la preda quotidiana l'uomo raccoglie pesca rimedia il suo lavoro finisce nell'urto e nella lotta nella esplicazione di una tecnica di mestiere la donna trasporta il carico sulla testa lavora il porco il pesce spada il capretto il tonno la sardina l'alice il pane con quelle mani che conoscono il peso e il valore di tutto l'universo mangiabile per le bocche che hanno fame quando gli uomini scendono in sicilia da messina a noto offrendo braccia di lavoro a qualunque prezzo le donne vanno per i loro traffici hanno lo stesso occhio acuto degli uccelli del cielo che vedono un chicco di semente dall'alto tra le pietre d'una strada nelle nelle soste alle stazioni più d'una si arrampica verso una siepe dove ascolto qualcosa di mangiabile golosa e curiosa come una capra l'età della bambina povera e curiosa di tutto l'universo vago sensibile puerile per esse non tramonta mai ma bisognerebbe sentire i loro discorsi arguti i loro giudizi del mondo e degli uomini ve ne sono che hanno l'aria e i modi di certe figurine di un antico teatro popolare si tirano dietro le bambine per poterle sorvegliare e per educarle alla stessa fatica tutto quanto è della natura è utile è nobile una bambina potrà portare una resta dagli a tracolla come una sciarpa per esse l'alimento è sacro è la ricchezza del mondo più vera è una vita e rabbonda che tuttavia dà l'impressione di una intimità e di un raccoglimento con gli sguardi bassi i canti alterni i lunghi discorsi e i silenzi lunghi e le soste ai torrenti per lavarsi a turno mentre le altre fanno la guardia o sulle prode dove colgono i fiori che stringono in un mazzolino della forma stretta del bouquet da sposa pellegrine e intime vagabonde e riservate le riconoscerei in capo al mondo e con la lingua pronta e tagliente perché se l'uomo è destino che a volte pieghi il capo sopporti la donna ha in calabria diritto di parola è la bocca della verità può inveire e gridare senza che per questo gli uomini menino le mani nessuno può dire di conoscerle se non è vissuto ragazzo in mezzo a loro quando vi guardano con quegli occhi materni vi toccano come come il pane come i frutti come tutto ciò che è creato prima che i loro sguardi di donna si accendano in un lampo fuggevole su voi uomo dandovi il brivido di quello che può essere il loro dramma e la loro forza di disperazione ho perfino ritegno di guardarle sedute sul marciapiede della stazione le braccia attorno alle ginocchia e le mani congiunte che è il loro atteggiamento di riposo un lembo dello scialletto attorno alla parte inferiore del viso e alla bocca esse sorridono e mostrano lo scrigno dei loro denti ai bambini e all'amato un sorriso per loro significa qualcosa non un gesto di loro è senza significato non vorrei che si voltassero dall'altra parte come sempre quando si vedono guardate sono ancora le ultime donne gli ultimi esseri umani che si mettono in fuga davanti al fotografo che gli voltano le spalle tutte insieme con un senso della loro intimità e personalità esse indistinte e asciami della propria immagine esse errabonde che non può essere confidata se non a chi amano ritegno ormai scomparso da ogni comunità e società anche la più gelosa e professante la sacralità dalle tribù selvagge alle fraterie più chiuse le portatrici di pesi inverosimili le donne atlete le strane giocoliere io fui a bagnara soltanto da ragazzo quando andai a trovare un prozio di mio nonno nei 90 anni dell'età sua allora bagnara aveva la risorsa dell'emigrazione in america e gli emigranti donarono alla loro città una ricca pavimentazione per la piazza attorno alla chiesa e i pesci spada me li ricordo passavano sulle carrette dei facchini per il direttissimo napoli roma col cartello dell'indirizzo legato al loro spadino un lusso è in genere della calabria povera il lusso di certe forme da questi ricchi pesci ai prodotti pregiati dei cedri e degli agrumi e delle essenze di fiori e la bellezza delle donne quando sono belle bagnara marcellinara gioiosa tirriolo calabrese e brace scriveva curie che le vide anche vestite da brigantesse a vendicare i mariti uccisi nella guerriglia contro gli invasori e una assaporò per coronare la sua vendetta il cuore del suo nemico perché nessuno sa che cosa possa la disperazione di una simile donna potrei raccontare il fatto di come si vendicò una sedotta per settimane si allenò a tirare di pistola contro il muro del cimitero su cui aveva disegnato una sagoma d'uomo quando fu sicura del fatto suo vendette tutto quanto aveva in casa si mise addosso i vestiti e la biancheria di cui disponeva andò dal seduttore infedele e lo freddò al primo colpo e senza più niente al mondo e con tutto il suo bene indosso si consegnò alla giustizia che l'avrebbe mantenuta a spese del governo la capitana tempo fa morendo un prete dei miei paesi mio parente mi lasciò una biblioteca c'è qualche libro pregevole qualche altro curioso uno soprattutto che ha una storia che io conosco come se mi si fossi trovato è intitolato le epistole di san girolamo eccetera eccetera stampato a firenze presso i giunti nel 1560 sulla fodera di carta pecora un dito in tinto di nero vi scrisse con uno stampatello malfermo vive il re viva dio era questo il grido dei massisti calabresi durante la guerriglia che sostenero contro i francesi e generale rene e di massena questo grido era scritto sulle bandiere ed è qui come un vessillo è uno dei pochi libri superstiti fra noi attraverso quel tempo e quella scritta suona come un esorcismo perché nella guerra contro i giacobini si fece anche guerra ai pochi libri che splendevano nelle case di sadorne e sui monti essi bianchi e augusti nella terra fatta soltanto di cose necessarie erano considerati la causa di tutti i mali si raccoglievano per bruciarli in piazza all'arrivo delle bande galoppanti sui cavalli selvaggi o volanti coloro stracci alle imboscate nelle foreste dove si aspettava il nemico di pugno dell'uomo è scritto sui fogli bianchi di riscontro soltanto il novero degli anni ogni nuovo possessore vi ha tracciato un calcolo fra l'epoca in cui era stato stampato il volume e quella della vita di lui ci sono due calligrafie del seicento tre del settecento una dell'ottocento e segnano come l'età del libro e quante volte in questa età è entrata la vita ad un uomo al 15 luglio del 1800 dice uno di tali calcoli erano passati 240 anni altri molti ne passarono poi fino a me altri ne passeranno e questo libro comincerà sempre così con la sua voce antica epistola prima della vita solitaria fu una giornata che se la raccontano ancora d'estate quando proprio la mietitura e la vendemmia si celebrano da noi le feste dei santi protettori si videro un giorno risalire il colle apparenze umane insolite un lusso di colori come mai si videro e cavalli e una massa variopinta d'uomini e una siepe di fucili neri come morti sterpi invernali mentre il popolo sbarrava le porte e si affacciava le finestre i ragazzi andarono incontro ai sopravvenuti prima aspettandoli appollaiati sui sassi e sulle dune scalzi e mezzi nudi offerte inermi della popolazione ma gli armati erano come amici si vedevano da vicino come facce familiari rese soltanto un poco più dure e feroci da barbe e mustacchi e del resto sulle uniformi diverse un cappello a cono una bisaccia a tracollo a tracolla e un porta bandiera che cavalcava un asino familiare ripresentavano aspetti noti di più in mezzo alla banda scoppiò come una zuffa il suono di una fanfara sui primi colpi di tamburo si cominciò ad arrovellare una zampogna il suo ritmo monotono e sfuggente fu scandito da un piffero di legno con la sua voce nasale e petulante e a quel richiamo scoppiato improvviso con un colore di festa la gente si riversò sulle porte e di qui come da comodi palchetti per tutto il borgo in salita vide la banda empire con rumore la piazza i ragazzi marciavano al passo davanti ai musici e battevano due sassi uno contro l'altro segnando il tempo assorti in un sogno avventuroso marcando il passo con le gambette nude e il passo era più grande di loro sentendosi sventolare intorno i loro stracci come liberi vessilli un grido scoppiò vive il re viva addio per sottolineare quel grido colpi di schioppo salirono in aria e gli stoppacci e i sassi della mitraglia fecero nel sole rose di fumo il portabandiera agitava il vessillo azzurro e il pistolone a tromba davanti a tutti il capo col suo cavallo selvaggio dal crine lungo e cinereo nobile fra tutti quei plebei si scoprì la testa agitando la feluca che portava da ufficiale della marina inglese una zazzera ricciuta si versò fuori e la figura del capo apparve in piena luce imberbe come un fanciullo l'occhio nero e umido il petto molle e gonfio sotto la fila dei bottoni lucenti e degli alamari della giubba rossa i ragazzi cominciarono a tempestarsi di pugni per poter vedere da vicino quell'apparizione le donne strillavano la capitana la capitana ridevano rosso e bianco intorno a loro a lei nelle barbe nere quelli della banda la farfara la fanfara si mise a suonare di nuovo e la capitana agitava il braccio ridendo d'un sorriso dolce e feroce gridò con voce squillante che era come lo strillo di un falco vive il re viva dio un uomo che stava a cavallo accanto al portabandiera gridò viva la capitana cica la gamba la capitana cica la gamba era piuttosto piena calettata dalla patina bruna che le aveva dato il sole il sudore che le irrorava il viso e le appiccicava i capelli le dava un aspetto felice di adolescente e una lucidità di statua asciugandosi col rovescio della mantelletta che portava sul braccio sinistro parve uscire da un bagno un ragazzo ebbe da lei curva sull'arcione l'ordine di andare a chiamare il prete e fu una frotta intera a correre via per l'ambasciata il prete venne tra pensieroso e premuroso tentennante come una campana l'aiutò a scendere di sella divenuto involontariamente cavaliere e la gli baciò la mano ma levando il viso gli diede un ordine si aprì la porta della chiesa le campane si misero a suonare imbrogliandosi un po perché dovevano essere in molti a tirare le corde e proprio di quelli della banda in piazza rimassero soltanto i cavalli degli ufficiali che ammusavano quello della capitana in disparte e l'asino del portabandiera con cui i monelli si prendevano qualche confidenza quello che era rimasto a guardia delle bestie dovette sostenere gli interrogatori dei curiosi sì la capitana aveva 25 anni era sposata ma il marito gliel'avevano ucciso i francesi sapeva chi glielo avesse ucciso sì per vendicarlo era divenuta capomassa aveva trovato l'uccisore lo aveva trovato e lo aveva voluto uccidere di pugno suo a freddo la sciabola che porta appartenne appunto al suo nemico che avrebbe voluto essere il suo amante aveva un amante la capitana nel suo seguito il guardiano fece una scrollata di spalle cica la gamba è la più coraggiosa massista che ci sia con lei i giacobini non ci ponno la capitana è giusta sapete che i giacobini dicono che dio non c'è noi difendiamo dio quando ci capitano fra le mani li bruciamo a fuoco lento egli diceva queste cose con l'aria di messa di chi parla delle faccende quotidiane le donne approvavano e qualcuno strillava ma come fanno a dire che dio non c'è ma se c'è se lo sappiamo perfino noi che siamo ignoranti come fanno a negarlo sono diavoli e napoleone è il diavolo in persona ma gli inglesi gli danno la caccia gli inglesi sono nostri amici e amici del re le campane attaccarono il canto della processione un allegro mosso che correva pe campi rasati ed eccheggiava nei boschi la terra intorno sembrava impreparata a quel suono e i monti e il mare lontano si accorgevano stupiti che era festa nella chiesa come un'esplosione voci intonarono noi voglian dio ed ecco che sulla porta apparve di nuovo la fanfara e a quel suono pareva si accendessero i ceri che si presentavano a uno a uno mobili e fatui nel vano buio della porta come chi non si vuole chinare dritta e rigida passò per la post per la porta la statua di san rocco e fu un'apparizione che nessuno si aspettava come di un gran signore che si affaccia brusco a vedere che accade ma poi fu sulla piazza e apparve agli occhi di tutti con l'aria di dire ma che vogliono da me e perché nessuno è preparato a vedermi per fargli onore la gente si buttò in ginocchio dove era dai balconi e di su le porte in mezzo alla strada negli orti se non che levando gli occhi videro l'immagine straordinariamente trasformata che al posto del bordone di pellegrino stringeva un fucile e al cane che gli deccava le ferite sul ginocchio avevano appeso al collo un pistolone a due canne e in testa un cappello a cono dio e i santi sono con noi gridò la capitana sguainando la sciabbola ai piedi del santo coprirono le sue parole le sue parole le grida dei seguaci e l'inno noi voglian dio il prete che non voleva ufficiare fu portato amabilmente in mezzo a due sgherri e poi si mise di buona voglia a cantare mentre alcuni di quelli che sbattevano a destra a sinistra un incenziere traspire di fumo odoroso la capitana in ginocchio si mise a pregare aiutateci contro i giacobini per il dio e per il re poi si volse di scatto e spalancando la bella bocca gridò chi ci vuol seguire un uomo pallido dal viso ombreggiato dalla barba rossiccia si fece avanti e si mise la mano sul petto la capitana lo guardò e gli sorrise e gli disse ho un buon cavallo e un fucile quanti anni hai 22 gli strinse la mano ed egli si mise al fianco guardandola ma uno della folla che aveva guardato la capitana con occhi fissi e incantati le si avvicinò per dirle questo uomo che avete preso ha dei libri in casa sa leggere e scrivere pensateci bene legge il francese questo tale aveva un grosso viso su un colpicino sottile come una maschera le labbra tumide gli occhi piccoli e neri fissi e parlava fatica era il debole di una casa ricca come allora nelle grandi famiglie ne nasceva sempre uno fra tanti e questo nelle famiglie della borghesia rappresentava l'innocenza e la cattiveria nelle loro più nude forme il giovane tirò fuori dal sacco che aveva già preparato due volumi rilegati in carta pecora e aprendone uno disse questo è il libro un santo san girolamo e la chinò il viso sulla pagina aperta e si mise a compitare a fior di labbra il giovane la vedeva le guance piene l'occhio umido e tornato infantile mentre era intenta a decifrare le sillabe dopodiché la capitana baciò la pagina facendovi prima una croce con l'unghia l'uomo allora non fece altro che tracciare sulla fodera con un dito in tinto di nero vive il re viva dio spaccò una canna a un'estremità nella spaccatura fissò il libro e lo levò in alto mostrandolo a tutti l'altro volume lo buttò in terra e lo allontanò con un calcio ma il porta il porta bandiera lo raccolse lo infilò una canna come aveva fatto il primo e lo agitava il vento giocava con quei fogli e lasciava leggere il frontespizio voltaire romana legoric philosophic eccetera donne perdute era una tribù di donne che abitava presso una fonte abbandonata dove non andavano ormai che ad abbeverarsi le bestie i porci a rotolarsi nelle pozze i ragazzi a cercare i granchi sotto le pietre umide queste donne erano venute da un paese vicino e parlavano un liquido dialetto greco era un gruppo di veneri di paese invecchiate con intricate parentele si distinguevano non tanto per la loro parlata quanto per i caratteri del viso dritto e senza nessuna di quelle vezzose disarmonie che hanno le donne di certi paesi chiusi del sud dove labbra spropositate si aprono su visi delineati finemente e gli occhi neri troppo grandi assorbono tutta l'espressione della persona come i laghi notturni concentrano la poca luce intorno la vita di donne come queste la conoscono tutti prima fanno le serve nelle grandi casate passano decine di volte per le strade a comprare a chiedere le mille cose che servono nelle case oziose e disordinate dove le ghiotte padrone hanno ogni ora voglia di qualche cosa pensando che il vicino abbia qualcosa qualche boccone da mangiarsi in segreto più tardi queste donne si riducono in un casolare con attorno una turba di figli e soprattutto figlie perché mettono al mondo femmine come per destino nessun uomo si vede nella loro casa mandano a servizio le figlie appena sono in età di portare i primi pesi sulla testa fino a quando anche queste non più giovani si ritireranno nei casolari appartati tutte insieme divengono serve di tutto il paese portano orci e barili d'acqua lavano i panni nel fiume vanno a fare le grosse spese per qualcuno nei mercati del paese sul mare colgono frutta e fichi d'india quando è la stagione vendemmiano portano sul capo le pietre per le nuove costruzioni a maggio e in giugno quando il sole punge lunghe file di donne come formicole vanno su e giù dai campi al paese ognuna porta sulla testa una grossa pietra le buttano in un mucchio e poi tornano indietro è questo il lavoro che accomuna tutte le donne di fatica vi sono le ragazze adolescenti che cominciano con questo lavoro la loro vita le donne mature e le veneri decadute alle soglie dei trent'anni quando per una donna del popolo nel sud scende il velo complicato delle rughe a quest'età le povere veneri possono non arrossire più come facevano tanto bene prima diventando linguacciute le eticano ed ad alta voce nelle grandi sere dei paesi sparlano sulla soglia delle case intonano le liste delle imprecazioni che a sentirle le buone spose presso i focolari si segnano come scansare la folgore ad operano il vocabolario degli uomini esse che prima passavano chinando gli occhi davanti a loro per svergognate che fossero e tuttavia il ricordo della grazia perduta le accompagna quando vanno di casa in casa qua a portare i grandi orci d'acqua là a caricarsi sul capo i grandi cesti di biancheria altrove per arruolarsi come sfatte baccanti per la vendemmia o per portare al bulino i sacchi di grano i loro occhi bramosi di vecchie cortigiane costringono i padroni di casa a usar loro qualche cortesia fanno tutto con sospiri di angoscia in tutti i loro atti c'è ancora un ritegno che costringe la padrona a pregarle di accettare una manciata di fichi secchi un paniere di frutta in gloria dei vostri morti si dice loro pregandole di accettare ed ecco che la loro oscura discendenza riscuote un poco di pietà la buona sposa padrona di casa legata alla sua stanza come l'architrave è commossa da avere tanta pietà sul viso smunto della cortigiana passita una lacrima scivola tra il sudore della sua fatica la padrona di casa impietosa promette se sarà servita fedelmente che quando verrà la buona stagione darà alla povera cortigiana tutti i giorni le bucce della frutta le scorze dei meloni le brode della cucina per il maialino che la alleva sotto il letto deserto se servirà con costanza già che di donne come queste nessuno si fida hanno improvvise superbie superbie i sentimenti per molti non nulla e da un giorno all'altro passano voltando la faccia dall'altra parte un sorriso rimasto in fondo agli occhi degli uomini ricorda loro il tempo in cui furono belle quando apparvero per la prima volta divenute adulte e pudiche a primavera tempo in cui le ragazze sciamano all'improvviso ondeggiando incerte nei balli popolari in cui tutto il paese si scuote si agita si batte come un materasso i maschi in piazza rimangono sovra pensiero e si informano di loro qualcuno per poterle guardare chiede da bere un sorso d'acqua i giovani bevono tutti ai loro orci tremando sotto il peso e l'emozione così comincia la vita per tutte le donne di questo popolo e ognuna va per il suo destino così vi sono quelle che trascineranno gli orci scuri delle loro famiglie e quelle che ne porteranno uno sempre diverso che lavoreranno per gli altri e sempre più faticosamente a mano a mano che gli anni le stringeranno come un pezzo di carta nel pugno alcune sono portate dal destino e da qualche generazione non nascono da loro che le pigre veneri di qualche breve stagione sedute sulla scala esterna del loro primo padrone guardano il mondo con occhi socchiusi fra le api ronzanti attorno ai piatti rossi di salsa di pomodoro messo a seccare al sole ai fichi posati sulle finestre alle decorazioni di peperoni rossi stride nel polverio solare la voce di tutti gli insetti come una gran voce di sonno solcata di quando in quando dal ronzio grave del moscone ai loro piedi si affanna dall'alba il popolo minuto esse aprono pigramente corrucciate le loro finestre alle otto quando il sole brucia alla schiena della gente curva sui campi fino a che sono giovani e in loro un senso segreto delle loro famiglie femminili che è in qualche cosa di geloso e di riservato come tra conoscitrici di un rito si parla di loro e della loro funzione come di cosa che esiste naturalmente appena avvizziscono è come se la gioventù sparisse da loro ogni mistero e ogni segreto gli uomini divengono sfrontati da discorrere con loro sboccatamente proprio quegli uomini che davanti alla loro giovinezza e alla bellezza non ardivano levare gli occhi questo è il segno che le avverte della loro fine buttate via come la scorza ad un cocomero sulla strada col segno dei denti di chi l'ha divorato qualcuno che le aspettate le ha raccattate e poi buttate via di nuovo scansate prima da tutte le buone spose guardate di sfuggita dagli uomini appena terminata la loro bellezza si trovano sulla soglia delle case stimate ora si accosciano come animali stanchi ora non ridono più nascondendosi la bocca vengono le nuove primavere passano altre ragazze grazie a tutti